Se non hai ricevuto la notifica sul dispositivo associato alla verifica in due passaggi, qualcosa è andato storto. In questo video ti mostrerò le procedure alternative da eseguire per ricevere la notifica di autorizzazione all'accesso. Per prima cosa, assicurati di aprire l'app ArubaPack sul dispositivo associato alla verifica in due passaggi e che il dispositivo risulti correttamente associato. Per farlo, apri l'app ArubaPack. Se visualizzi l'avviso mostrato, all'inserimento del codice di verifica ricevuto tramite SMS, tocca Associa questo dispositivo per eseguire l'associazione del dispositivo. Poi ripeti l'accesso a uno dei pannelli Aruba e verifica di ricevere correttamente la notifica Pusha. Se il dispositivo risulta correttamente associato ma continui a non ricevere le notifiche di autorizzazione all'accesso, ti consiglio di inviare una nuova notifica. Attendi qualche istante fino a quando non visualizzi la schermata Non hai ricevuto la notifica? E scegli Invia nuova notifica. Mi raccomando, per eseguire questa procedura è importante attivare la ricezione delle notifiche sul proprio dispositivo. Se continui a non ricevere le notifiche, tocca Usa un altro metodo. Quindi apri l'app ArubaPack, vai su Menù e poi su Impostazioni. Scegli Genera codice per verifica. Copia il codice. Inseriscilo nel campo indicato e tocca Verifica. Se hai più caselle PEC, assicurati di copiare il codice di verifica associato alla casella PEC per la quale stai effettuando l'accesso. Se il problema permane, utilizza la procedura di accesso con SMS. Attendi qualche istante fino a quando non visualizzi la schermata Non hai ricevuto la notifica? E scegli Usa un altro metodo e poi Usa un metodo senza app. A questo punto riceverai un codice di verifica tramite SMS sul numero associato alla casella PEC. Se il numero è cambiato, procedi alla modifica tramite il pulsante Modificalo. Poi inserisci il codice ricevuto nel relativo campo e tocca Verifica.